Il commercio in centro, ucciso dai sottoservizi e ora tanti commercianti che avevano preso il finanziamento ottenuto con il bando Farecentro, sono pronti a rinunciarvi e a spostarsi dal centro storico dell'Aquila. Ci sono tante chiusure, via Sant'Amico, via della Genca, via Paganica e piazza Chiarino. Sono costretti ad un percorso ad ostacoli poveri clienti e commercianti degli esercizi commerciali che hanno riaperto a fatica dopo il sisma. Praticamente, tra Corso Vittorio Emanuele e piazza Regina Margherita e via Garibaldi, un percorso ad ostacoli. È impossibile raggiungere negozi e locali. A questi si può arrivare soltanto attraverso piccoli camminamenti, labirinti tra i cantieri. Il cantiere dei sottoservizi ormai è fermo da settimane e nessuna comunicazione ai commercianti. In questo modo, la vita dei pochi coraggiosi negozi che hanno riaperto rischia di finire nel giro di pochi mesi. Le difficoltà erano note, si sapevano, ma non si sapeva che sarebbero arrivate fino a questo punto e soprattutto con tutti questi tempi dilatati e ritardi. Affitti che a volte sono anche salati, tasse che si devono pagare, la vita dei negozi. È fortemente a rischio. Alcuni commercianti beneficiari anche dei contributi del Bando Farecentro stanno pensando in questi giorni di rinunciarvi. I rallentamenti dei lavori dei sottoservizi sono dovuti anche a ritrovamenti archeologici e allo stop dei cantieri in alcuni casi. Lungo via Garibaldi, ad esempio, chiusa dall'8 gennaio, i lavori di realizzazione delle nuove reti idriche e fognarie si sono fermati quasi subito per il ritrovamento di alcuni reperti. E non va meglio all'inizio del corso, dove la presenza di elementi architettonici ritrovati sotto il manto stradale era nota però almeno da un anno, visto che la sovrintendenza già aveva bloccato in prima battuta i lavori all'inizio del 2017. All'inizio del 2018 si è tornata a scavare e la situazione si è ripetuta. I commercianti però ora sono davvero stufi e allo stremo, urgono soluzioni, perché altrimenti anche loro, che avevano avuto il coraggio di riaprire, andranno via dal centro.